Musica Diamo il benvenuto a Chiara Marchina Grazie mille Istruttrice per quanto riguarda la Federazione Italiana Sporcinofili della disciplina Rally Obedience Grazie per essere venuta qua da noi a Torre del Benaco Grazie mille dell'invito Grazie a te Ora Chiara Marchina, istruttrice per la Federazione Italiana Sporcinofili di Rally Obedience Raccontaci cos'è la Rally Obedience e come si è approcciato La Rally Obedience è una disciplina cinofila recente in Italia importata dagli Stati Uniti da Carlo Marzoli col pensiero di permettere a tutti i cani di poter praticare una disciplina a livello sportivo è una disciplina a differenza delle altre che permette a tutti i cani di partecipare perché durante un percorso fatto di cartelli che portano esercizi di educazione di base è possibile rinforzare il proprio cane quindi anche i cani che fanno più fatica ad avere attenzione che hanno bisogno di un aiuto in più possono praticarla perché il conduttore in ogni momento può parlargli, può dargli un bravo, può dargli un boccone può giocare con lui e quindi è aperta a tutti i tipi di cani che vogliono provare questa disciplina Ci sono dei cani più portati a questa disciplina? Va bene un po' per tutti? Nella realtà va bene per tutti perché anche i border colli che sono fortissimi su altre discipline in queste ogni tanto fanno un po' fatica perché sono troppo veloci quindi perdono a volte imprecisione Quindi abbiamo trovato una disciplina dove i colli hanno problemi Esatto, vi farò vedere col mio Ogni tanto capita che un colli ha un problema in una disciplina Guarda, è bellissima sta cosa Io mi sono approcciata e mi chiedevi con quale cane col mio San Bernardo, il gigante Purtroppo non c'è più, era il nostro gigantone ma che non poteva in qualche modo approcciarsi ad altre discipline questa è stata la sua perché era sempre vicino a me e era a sua misura I cartelli sono messi distanti nel campo e quindi c'è spazio per ogni cane Ok, e come disciplina è facile per il neofita? Allora, a tre livelli Il primo lo può approcciare chiunque abbia un minimo di educazione di base basta avere un seduto, un terra e poi si può aiutare il cane in ogni momento del percorso e quindi tutti i cani riescono a portare a termine con successo il giro salendo nelle classi diventa più complessa e quindi bisogna un pochino avere una preparazione un pochino più tecnica sugli esercizi ma alla portata di tutti, si possono imparare Da quanto tempo la pratichi? Undici anni, ormai il gigantone era di qualche anno fa e quindi è stato uno dei precursori della disciplina Perfetto, molto bene, molto bene Hai qualche riconoscimento nazionale? Qualcosa? Allora, per adesso i campionati che si sono ritenuti sono riguardato il campionato italiano e negli ultimi anni il nostro Golden si è sempre piazzato al secondo posto nella Coppa Italia Sì, sì, lo vedremo in campo e poi ci saranno tutti i componenti della squadra che negli altri anni si sono assolutamente difesi nel campionato Ok, ah, sei accompagnata quindi dai tuoi compagni di squadra? Assolutamente, tutti schierati pronti oggi Allora, perfetto, quindi tutti i jackisti che volranno provarlo ha il campo sulla destra del disc, quindi quello dove c'è il signore con la maglietta rossa Ok, sarà quello dedicato a Rally Obedience Fino alle 14 potete provare le dimostrazioni e provare questa disciplina Vi aspettiamo sul campo Grazie Chiara, grazie per averci raggiunto oggi a Torri Grazie a tutti voi, grazie da parte dell'associazione, già grazie a Terri Vittorio Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti